calottino per elmetto interno modello 89 ex germania ovest veniva utilizzato per l'interno dell'elmetto d'acciaio oramai in disuso la parte superiore è in polimero morbido molto resistente sospesa su una cerchiatura metallica che percorre tutta la sua grandezza e all'interno ha una struttura in cuoio con dei fori avanti per la sudorazione e tutta forata per la traspirazione e un lacciolo che serve per regolare l'ampiezza della calotta interna sul fondo troviamo una gomma morbida per non ferire il capo e sul retro c'è questa questa struttura che è amovibile che si può regolare viene adattata in base alle dimensioni del capo dell'elmetto perché al suo al suo interno troverete una ghiera metallica che è regolabile allentandola si va ad agire su questa parte qua dell'elmetto che fa sì che possa andare avanti indietro fino a che non troviate la soluzione migliore poi viene tirata e riportata alla all'ampiezza decisa grazie a tutti grazie a tutti